La rivista Siamo arrivati allo spazio rivista, oggi ci occupiamo di fotografia e lo facciamo con la rivista Crinein ospitando il suo direttore Roberto Raineri Seit che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, per chi non la conoscesse, proprio in due parole perché poi diamo spazio ai contenuti, che cos'è e cosa fa Crinein? Dunque, Crinein è un'online review, per usare questo termine, bimensile di fotografia d'autore essenzialmente. Ci poniamo su posizioni un po' meno mainstream rispetto alla fotografia di indirizzo più commerciale, più popolare e soprattutto ci occupiamo di autori ticinesi, italiani oppure di autori che si sono confrontati con la realtà della Svizzera italiana. Io posso immaginare che oggi o comunque nei prossimi giorni direte anche voi la vostra sulla scomparsa di Rene Burri così come abbiamo fatto noi in più occasioni in questa mattinata sul sito vedo che non c'è ancora nulla per cui andrei però direttamente a questo punto invece all'architettura principale, anzi al contenuto principale di questa edizione che in questo momento è online, ovvero l'incontro con architettura e tecnica di Alessandro Botteri Balli. Sì, due parole su Rene, io l'ho conosciuto, naturalmente è una grandissima perdita, mi piace ricordarlo qua perché il suo lavoro è veramente una grossa perdita. Su Alessandro Botteri Balli, lui è un interprete classico della fotografia tra la documentazione e l'interpretazione stile basilico, John Davis, questi grandi maestri, utilizza rigorosamente la camera da studio quindi si adatta perfettamente all'architettura, il bianco e nero quindi ha creato, dunque questo lavoro del 2003 va specificato, in un momento in cui andava molto il digitale, a quel tempo ancora molto immaturo giocato sugli effetti, soprattutto lui sceglie di fare un lavoro in controtendenza utilizzando proprio tutti gli strumenti e i parametri formali classici della fotografia di documentazione. Il lavoro era finalizzato a una pubblicazione e una serie di mostre, cose che poi sono state, sono avvenute e l'abbiamo recuperato proprio a distanza di dieci anni per rivedere se teneva nel tempo, assolutamente sì anzi questa scelta di utilizzare proprio la fotografia classica si è rivelata assolutamente vincente. Il lavoro in sé è un viaggio attraverso la Svizzera alla ricerca di questi impianti idroelettrici e credo che li abbia documentati tutti, quindi è stata anche un'impresa ciclopica per certi versi durata naturalmente diversi anni. Ci sono, c'è la parte, accanto alla parte iconografica d'autore c'è naturalmente anche tutto un compendio tecnico quindi il volume è molto interessante anche per chi si interessa proprio al tema dell'idroelettricità dal punto di vista anche appunto tecnico. Lei accennava al fatto che una decina di anni fa il mondo della fotografia digitale fosse sicuramente meno maturo di oggi, ma allude alla tecnologia di allora che non permetteva la definizione paragonabile a quella delle pellicole? o si parla proprio di una maturità acquisita dal fruitore di questo strumento, dall'utilizzatore, dal fotografo stesso? Ma entrambe le cose, se andiamo all'inizio degli anni 2000, anche il periodo immediatamente precedente proprio a livello tecnico, tecnologico, per esempio la risoluzione delle macchine dell'epoca era inferiore ai 10 megapixel, anche le macchine professionali, indossi a scansione, queste cose qua avevano una risoluzione non confrontabile a quella di oggi. Allora si giocava un po' su questa, si cercava di compensare un po' questa mancanza di qualità giocando sui flu, giocando sugli effetti, eccetera. Quindi da un lato era anche un po' un modo per nascondere i limiti del mezzo tecnico. C'era però anche in parallelo un modo di esprimersi in immagini molto giocato sull'effetto, che non era soltanto un tentativo di mascherare queste carenze tecniche del digitale di allora, ma anche una scelta estetica, che però si è persa molto rapidamente, insomma ha durato il tempo che è durato. Oggi il digitale viene utilizzato in fin dei conti in modo rigoroso, pulito, almeno chi lo sa fare con vera professionalità e vero gusto, lo utilizza evitando gli effetti. E tra l'altro lo stesso Rene Burri leggevo questa mattina, io sono un profano della fotografia, ma leggevo questa mattina sui quotidiani che negli ultimi anni lui stesso si era convertito al digitale dopo una vita intera passata con la sua leica al colo, una leica naturalmente a pellicola. Sì, sì, certo. Beh, allora bisogna dire, lui io appunto lo conoscevo, l'ho incontrato molte volte, lui era passato, è sempre rimasto fedele alla laica, la laica M, quindi la macchina telemetro, è passato dalla macchina film alla macchina digitale, ma sempre laica, quindi la sua filosofia di scatto non è cambiata, si è adattato tecnologicamente con ottimi risultati, peraltro. Cioè non è andato, Rene, non è passato al digitale, come dire, vorrei usare, diciamolo pure, il digitale Kitsch, che molti usano, ha utilizzato sempre la macchina come strumento di rigorosa documentazione. Sì, infatti poi non è per forza lo strumento, è sempre l'occhio che c'è di per fare la differenza. Esattamente, quindi l'occhio di Rene Burri è rimasto quello indipendentemente dal mezzo utilizzato. Certo. Roberto Rene Risseit, io la ringrazio e do ancora l'indirizzo, perché non l'abbiamo ancora dato, l'indirizzo web della vostra rivista online che è www.creenain.org, Creenain con la K naturalmente, e poi se volete sapere qualcosa di più sull'etimo, sull'origine di questo nome, c'è tra l'altro proprio nel sottotitolo sulla pagina principale. Grazie ancora, a risentirci a presto. Grazie a voi, a risentirci.